Grazie 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 We have always talked to each other He seems so surprised by this I really like to tell you You can sing together So the idea was to have Paragati and myself as the protagonist to announce it to the world and to pretty much organize E questo sogno è diventato poi il progetto che loro hanno portato avanti per molto tempo di cantare insieme e mettere insieme anche un gruppo di star per fare qualche cosa con loro due, e raccogliere fondi per tutti i bambini bisognosi. Lui verrà il 17 da te. Are you going to be together in Modena on the 17th of June? Do you want to do that announcement? Oh, yes. There is another announcement. E poi il 18, il 18 giugno sarà in San Sirocia. On the 18th, you're going to be here in Milan, you're going to sing here in Milan, right? Yes, a concert here in San Siro, in Milan. Il 18 giugno sarà qui a Milano, a San Siro, per un concerto che vedrà, io credo, gente da tutte le parti d'Italia per applaudire Michael Jackson. Ha qualcosa da dirci, Michael, qualcosa da dirci. Well, the three tenors on the 17th of June in Modena, and I wanted to join them. Dice che sarà seduto in prima fila al concerto dei tre tenori il giorno 17 di giugno a Modena. Thank you very much, it's a great gift. Di mostrazioni soppartia. Tanto lo mettiamo in prima fila, tanto lo mettiamo in prima fila, tanto lo mettiamo in prima fila. È una cosa meravigliosa. E Michael Jackson è questa sera, you're here also to be, to present an award to a very important category, to the best show of the year, and we're very proud of that. Lui è qui anche per dare il premio interregatto alla migliore trasmissione dell'anno. Benissimo. E questa è una cosa che ci onora moltissimo e onorerà in maniera particolare la migliore trasmissione dell'anno che è la busta, la busta, la busta, lo diciamo se non c'è bisogno. Non c'è, non c'è nomination, se non c'è dei, se non c'è dei, anima mia! dettagli in maniera. Qualc구요 la busta, chissime da lì, recommendations, quote or time in maniera particolare la Fabbina Zucchini, Claudio Bagnoni! Serviamo ai nostri di caglia con lo stesso applauso offerto a Michael Jackson perché allora E ti prenderai il pregio dalle mani di Maiko? Fabio, complimenti, amico Fabio. Ciao Fabio. E' un parterre ricchissimo di celebrità perché, signore e signori, su un parco scenico, con tutto il rispetto dovuto, doveroso, e ai confronti di tutti i partecipati a questa serata, va a vedere nello stesso parco scenico. Luciano Pavarotti, Michael Jackson, Claudio Baglioni, Fabio Brazzi. Do you want to give the award to them? I'll get it, I'll get it, because we said it before. Siamo noi. Michael, do you want to give it in the hand of Fabio or Claudio? Claudio Baglioni. Non si chiede l'autografo. Ah, l'autografo. Io ci tenevo a, se ti approfitterei, per ringraziare tutti quelli che... No, calmi, calmi. Just one. Dice just, uno solo, uno solo. Uno solo, fatelo venire, dai. E ha scelto lui. Dai. Una sola. Here we have a girl, we have a girl, and a boy. Una ragazza e una ragazza, rappresentante di tutta Milano. Ed è una persona dolcissima, Jackson, devo dire, una persona di una semplicità, di una carineria, di una umanità. Un saluto al grande Luciano Pavarotti. Luciano! Grazie, Luciano. Michael Jackson! Grazie, Michael. Thank you very much. Ciao, buona parte. Anche a mio, bravo. Bravissimo. Grazie. Thank you very much. Ciao. Luciano Pavarotti, Michael Jackson. Un momento indimenticabile. Grazie, Luciano. Ci vediamo il 17 a Modena. Bye. Non so se... Che momento, guarda, è incredibile. Finalmente, finalmente siamo a casa. Siamo soli. Non so se basta per dire che... Non so se... Dicevo, non so se basta per dire che ho conosciuto Michael Jackson. Ma insomma, va bene, comunque mi fa piacere. Siamo soli. Lo so. Siamo soli. Ci vediamo prima. Siamo soli. Siamo soli. Ci vediamo. Siamo soli. Grazie a tutti. Grazie a tutti.